eccoci qui siamo live mi sto giusto togliendo la giacca un po il senza giacca di caressa ben trovati a tutti ben ritrovati a tutti questa è stata una diretta totalmente improvvisata devo dire alla quinta segnalazione del video delirante con il presunto hater che ha fatto pistono io devo dire avevo ignorato le prime quattro segnalazioni alla quinta anche perché pistono mia come sapete vigliacamente e democraticamente bannato quindi può continuare a diffamarmi secondo lui senza che o legga ma ovviamente anche questa è una questo è un sinonimo di ciao quando è un sinonimo di scarsa lungimiranza per non dire altro perché ci vuole ben poco per arrivare comunque ai post che lui crede di potermi nascondermi alla quinta segnalazione mi sono andato a vedere sto video di 24 minuti dove lui intervisterebbe un presunto e non identificato né identificabile hater dovete sapere che per questi fuffa guru chiunque li contesti chiunque li critichi anche in maniera competente ed educata è automaticamente un hater lo spiegavo in diverse mie dirette anche in alcuni miei post queste persone sono convinte di non essere criticabili da nessuno e quindi chiunque ponga anche solo una domanda è un hater in realtà non hanno o non conoscono il significato delle parole che continuano a usare più per auto persuasione mantrica che secondo me per altro oppure lo conoscono in malafede continuano a usarle per passare per vittime comunque la telefonata con queste per parte bene nel senso che queste sembra anche una persona critica che fa le giuste obiezioni e poi alla fine si scopre che addirittura il cialtrone sarei io invece federico è una persona molto in gamba un ragazzo capace che sa fare cose non si capisce cosa però che sa fare delle cose e vedere della gente e che io sono purtroppo dice questo imperatore purtroppo ci sono tanti che lo seguono e pendono dalle sue labbra purtroppo e vedi questa sciagura che c'è gente che mi segue sempre più gente che mi segue e che anche addirittura alcuni che pendono dalle mie labbra e io faccio questo lavoro di istruzione io ho analizzato eh il c'è sempre il mio Shopify eh ho analizzato ovviamente tutta la diretta appunto per punto devo dire le cazzate dette da pistono sono enormi e devo devo riconoscere gli due talenti eh sembrare eh calmo eh in realtà da quello che scrive da come lo scrive dalle dalle stegie meschine scorrette che mette in pratica non lo è per niente e due eh manipolare eh le cose cioè riuscire a e buttandola in cacciara cioè l'ha fatto anche con Marco Camisani Calzolari io partirò da Marco Camisani Calzolari perché rispetto a lui io non sono nessuno Marco è eh ecco a me chi poco mi conosce e perché io sponsorizzo ben poco quello che faccio eh per la per la mia attività di impresa come sapete ne parlo poco giusto quando costretto e quindi lascio che chi ha si conforta in questo pensiero eh una vendita in diretta sei peggio che fuffaguro è vero dream un dream in diretta eh mi scordo sempre di togliere la sonneria da sto cosa perché io ce l'ho sempre con la sonneria del telefono qui dicevo ehm quindi lascio che si confortino da soli in questo pensiero del germano umilite sfigato giornalista che non capisce niente di imprenditori imprese e aziende anche se oramai devi essere un po' ritardato di mente per non capire che cosa sono chi sono cosa faccio da quanto tempo dove lavoro di cosa mi occupo di cosa sono esperto il ritardato o in malafede o magari un po' entrambe le cose comunque questa sarà una live fortissima ragazzi io mi ero anche scordato di Federico Pistono ma visto la diffamazione mi ha dato dell'imbecille dell'idiota del cialtrone del bugiardo dell'incompetente dell'invidioso e sì dite vabbè non ti ha citato ma ero io e si capiva chiaramente che sono l'unico giornalista dopo Marco Camisani Calzolari che gli ha posto le domande e e ti dico vi dico che questa live è un autogol forse ancora più grande poi andiamo a smembrare punto per punto questo autogol andiamo ad analizzare punto per punto ma smembrare la diretta punto per punto più clamoroso degli altri due post deliranti il primo in particolare che lui aveva prodotto per difendersi dalle mie domande senza rispondere mai è clamoroso perché parte ancora con questo libro scritto dieci anni fa ancora ci dice best seller io ho fatto un'analisi accurata sul libro l'avevo già fatta all'epoca non ne avevo parlato per non perché c'era già tantissimo materiale c'erano già talmente tante cagate dette dal Pistono che avrei potuto avrei dovuto fare in ciclopedia però oggi mi dà l'opportunità Pistono di andare a analizzare anche il suo libro il presunto successo di questo presunto best seller di questo presunto capolavoro che avrebbe presumibilmente voluto leggere anche lei ripete adesso ha già cambiato perché vedete quando voi vivete di balle quando dite una marea di balle tenere il conto di tutte le balle che avete detto nel corso del tempo è impossibile vi perdete tra le vostre coglionate quindi a furia di dire cazzate a ripetizione in maniera forse addirittura patologica vi dimenticate ho conosciuto delle persone che non riuscivano a dire la verità è una malattia proprio il bugiardo c'è stato anche un film immagino famoso che immagino avete visto famoso con Jim Carrey dove lui appunto non riusciva a dire verità neanche per cose che non contavano niente e il succo è 16 balle sulle cagate per esempio la temperatura di Tallinn dici balle anche su cose molto più importanti a maggior ragione no e quindi chi vive di balle chi si costruisce un castello di balle dove ci mette in mezzo anche un po di verità o mezze verità è chiaro che poi si scorda lascia delle briciole di cazzate in giro e c'è poi chi mette insieme queste briciole e fa un biscotto di merda che è il biscotto delle cagate che sono state dette nel corso del tempo allora prima lui prima diceva che in realtà l'herry page aveva letto il libro e si era congratulato con lui lo diceva un articolo che ho linkato nella mia inchiesta se cercate federico pistono yang lo trovate andate a rivedere vi fate una rinfrescata pubblicato sull'haffington posto dove si cita un articolo del financial times dove l'herry page parlerebbe di pistono citando il suo libro tutto assolutamente falso cioè o meglio aprite quel link che io ho inserito cliccate sulla notizia del financial times non c'è alcuna traccia di pistono adesso pistono cambia versione dice che il presidente di google play lo ha chiamato perché il libro non era su google play e ma se c'è pensate la bene sta roba e la l'herry page non voleva doveva leggere per forza da google play e quindi lo doveva mettere su google play per farlo leggere all'herry page ma non poteva comprarlo su amazon poi andiamo a vedere le grandi recensioni che ha su amazon questo best seller internazionale che c'ha quattro recensioni in croce in spagna ne ha cinquanta non ho visto con un punteggio di tre ma andremo analizzare così vi faccio anche una un focus su come valutare la veridicità delle recensioni positive e negative e quindi la vera qualità di un libro al di là del punteggio medio che può essere facilmente fuorviato ok da recensioni fake positive adesso ha cambiato versione quindi dice questa racconta questa cosa quindi l'herry page e ovviamente c'è mia amica posso darvi la mail è una cosa privata ma come camisani ha anche marco camisani ha dimostrato che tu mi lantavi grandi conoscenze grandi confidenze con gente che non sapeva manco chi eri solo perché ti ha rifatto una foto vicino al palco dov'era e adesso ti fai lo scrupolo di mostrarci questa fantomatica email del presidente di google play che ti chiede di far leggere il tuo libro all'herry page non è molto coerente questa cosa magari questa mail esiste però è strano che tu voglia tenerla privata quando non perdi occasione per vantarti di quanto sei figo di quanto sei superiore ripeti in maniera ossessivo compulsiva che hai fatto dieci anni in silicon valley come se questo ti avesse elevato a un livello alieno invece in realtà è molto poerile molto ingenuo dimostri che forse il mondo lo conosci meno di quello che dici dice tra l'altro una cosa gravissima di un'arroganza incredibile una parte del video dice quelli che mi criticano è gente che non è mai uscita sono tutti persone che non sono mai uscite dalla provincia cioè c'è questo questa megalomania di fondi di fondo che diventa anche mitomania auto mitomania perché lui è mito di se stesso e guarda tutti noi dall'alto al basso che lui è il grande imprenditore esponenziale mi sembra in realtà più che altro il delirio di un irrisolto questo video ma andiamo con ordine io adesso vi faccio vedere le recensioni sul suo libro questo best seller che ha cambiato che doveva essere letto a tutti i CEO del mondo questo libro avveniristico questo libro che lui ha scritto nel 2012 e ancora ne parla vedete vabbè ma sarà un best seller internazionale vero dai numeri di amazon direi di no sarà un libro eccezionale e incredibile imperdibile dalle recensioni negative e dai voti unici vedremo che potete andarlo a vedere anche voi se non vi fidate di me andate a vedere voi il diciamo la le recensioni a cinque stelle a quattro stelle hanno uno due tre voti utili le recensioni negative che lo distruggono a due e una stella hanno anche venticinque ventidue venticinque voti utili e questo mi da diciamo il come dire il e là l'assist per parlare di questo tema del quale ho già accennato in in un'altra diretta cioè di come è possibile manipolare le il punteggio medio dei libri su amazon e di come però è possibile migliorare dei libri che sono fondamentalmente scarsi e vendono poco perché un libro che ha 90 recensioni dal 2012 è oggettivamente un libro che almeno su amazon ha venduto poco devo vedere anche il ranking su amazon è assolutamente basso quindi non è un best seller internazionale e non è un libro che io dopo dieci anni continuare a citare come qualcosa che dovrebbe a criticare a creditarmi come genio visionario ma certo che ci si riferiva a me ci si riferiva a me assolutamente si riferiva a me mi parlavano di me di quello che io ho chiesto lui mi dava dell'imbecille del cialtrone praticamente del bugiardo persone malafede invidioso fallito gente che personaggio che non capisce niente di imprese start up quando io gli insegno io a federico pistono che cos'è un angel investor addirittura mi attribuiva frasi che non ho mai detto vado su mamma crowd ma gli spiego io a pistono come funzionano gli investimenti in ecf sulle piattaforme di crowdfunding il primo l'ho fatto non in ecf ma in reward crowdfunding nel 2012 sono io che spiego a lui come funzionano queste cose quindi anche qui fa capire che in realtà è il classico è la classica vittima di fenomeno della del di proiezione lui proietta su gli altri quello che lui stesso è bugiardo manipolatore in malafede e probabilmente anche un po invidioso non ho la megalomania di dire che invidi me non credo spero per lui che non mi invidi perché è seguito da invidia quando dici delle cose è sempre brutto però è chiaro che quello di cui lui di cui lui mi accusa oggettivamente si macchia ciao ragazzi no ragazzi non mi fate domande fuori si vengono sempre salvate le dirette non vi preoccupate allora andiamo avanti vi voglio far vedere adesso vi condivido vi condivido vi condivido vi condivido vi condivido lo schermo eccola qua allora questa è la scheda delle recensioni in america 3.8 mercato americano amazon.com 5 stelle il 42% una stella 5% va analizzato poi qui c'è la top positive review che ha preso 12 persone che hanno ritenuto record per pistone in Italia non mi pare di aver visto tra le 5 e le 4 stelle più di 5 6 persone la critica in realtà è questa qui la due stelle che ha preso 7 recensioni è del 2016 in realtà però se andiamo a vedere non la fa vedere più quella ha una stella eccola qui questa qua è di James L. Brannan che io mi sono preso la briga di leggere tutta e tradurla in estrema sintesi la lascio qui poi ovviamente potete fare il fermo immagino o andare su amazon.com e cercare la recensione è molto interessante quello che dice ha preso 22 voti favorevoli voti utili che ritengono cioè utile e sensata e ben scritta e ben argomentata la sua recensione ha una stella che distrugge senza proprio possibilità di come devo dire di confusione il libro di Pistono e parliamo comunque in totale di questo best seller che è online da 10 anni di 75 recensioni ci sono anche delle recensioni positive anche argomentate questa ve la faccio vedere ovviamente per completezza che raccontate quello che dice Pistono io vi mostro tutta la realtà poi voi vi fate le vostre idee però oggettivamente su questo libro la recensione che ha preso il record di voti utili è questa qui ok andiamo sull'altra ok l'altro record che vi voglio far vedere è questo qui ah ecco perché ok ok l'altro record che vi voglio far vedere l'altro record esatto è su questa qui che adesso vi faccio vedere ecco qui questa qui italiana 91 quindi lui è il paese dove ha avuto più vendite e ha il voto più alto lì aveva 3.8 qui 4.3 la più positiva è questa qui che ha preso due persone che l'hanno trovata utile la più negativa è di Nicola Alinovi che ne ha presi 25 di voti utili saranno tutti quanti haters invidiosi falliti venuti dalla provincia però devo dire che questa recensione è ottima perché è una recensione di un fan non di un hater di Pistono che dice avevo Nicola Alinovi unice nome e cognome acquistificato avevo grandi aspettative su questo libro sia perché il titolo è molto accattivante sia perché eseguo da tempo l'autore lo considero un giovane estremamente propositivo e in gamba purtroppo però devo dire che sono rimasto deluso il libro del complesso è ben scritto ma manca di qualcosa credo che questo qualcosa sia un certo livello di profondità dato il titolo evocativo ci si aspetterebbe di leggere in che modo la tecnologia e l'intelligenza artificiale cambieranno il mondo e il modo in cui possiamo adattarci tuttavia il modo in cui il mondo cambierà è accennato solo di sfuggita con alcuni sporadici esempi e i metodi per sopravvivere al collasso economico sono già visti e poco o nulla hanno a che fare con il mondo tecnologico del lavoro per esempio uno dei consigli forniti tra i tanti è quello di limitare il consumo di carne e di utilizzo dell'automobile per ridurre il nostro impatto sull'ambiente parole molto belle sono ente utili ma in che modo questo salverà il mio posto di lavoro quando un robot molto più intelligente di me saprà svolgere le mie stesse mansioni meglio nella mia e nella metà del tempo sicuramente parte dei difetti di questo libro sicuramente con l'esperienza questo è un primo libro scritto dall'autore forse in maniera un po' prematura nel 2012 aggiungo io ed è il motivo per cui leggerò sicuramente altri libri di Pistono spero di trovare la giusta dose di profondità richiesta per affrontare i vari problemi proposti in maniera più approfondita e appagante se a livello resta questo meglio leggere un romanzo mi sembra una recensione molto equilibrata questa qui ovviamente ragazzi sono recensioni quindi sono sempre robe soggettive io volevo semplicemente analizzare che questo grandissimo quindi il primo blocco il primo monolite autoreferenziale autoconfermativo di Pistono non sembra così top cioè non sembra che oggettivamente abbia proprio un numero considerevoli di recensioni e le recensioni negative io ve le ho fatte vedere soltanto due ma in realtà potete andare vedete sia quelle positive sia quelle a quattro serie sia quelle a tre sia quelle a due molti dicono che è pieno di errori di battitura addirittura su amazon.com ci sono segnalate proprio delle issue cioè dei problemi nella formattazione e in alcuni errori di battitura queste sono nulla da galera però per dire che insomma non sembra questo libro incredibile imperdibile del quale lui si vanta in maniera spropositata fa Giorfranco regista appena di telefono inventiamo una trefata farlocca io non so se quella trefata sia vera o farlocca se quella persona questo Tommaso che spero magari se esiste ed è vero vedrà questa mia replica alle offese alla diffamazione alla mistificazione alle falsità alle bugie di Pistono vedrà se esiste spero che insomma ecco si tornerà dove era partito cioè col fatto che io Pistono l'ho bannato e potrebbe intervenire anche qui e commentare e gli ho chiesto più volte un confronto sul fatto che lui invece mi abbia bannato e censurato diffamandomi offendendomi pur senza citandomi perché è terrorizzato da me e da quello che la gente può ascoltare e leggere se mi segue e perché sa di essere totalmente incapace di leggere un confronto con me su qualsiasi dei temi che lui offre che lui offre come suoi diciamo temi forti ha cambiato anche un po' di carta in tavola ha detto che lui non dice di essere un imprenditore milionario milionario non metto questo io mi sono semplicemente chiesto come mai e sulla base di quali esperienze esponenziali lui insegna agli altri in Maverick il luogo degli imprenditori esponenziali a diventare tali bastava rispondere a questa roba in maniera molto serena come lui finge di essere e magari avrebbe ribaltato un'altra cosa che Pistono fa finta o non sa fa finta di non sapere o non sa quindi è scarso in comunicazione se non la sa è quando un hater che sia giornalista imprenditore salto in banco ne turbino ti attacca in maniera strumentale meschina in cattiva fede ti incazzi all'inizio ci sta anche a me quando mi attaccano in mala fede mi dicono mi scrivono infamità me la prendo mi arrabbio però dopo tra virgolette li ringrazio perché mi danno un assist per ribaltare la situazione uscirne benissimo come quello che appunto è stato attaccato ingiustamente perché evidentemente dava fastidio a qualcuno quindi bastava rispondere nel merito alle mie domande ma prima delle mie domande c'è una cosa che lui dimentica dice molti di voi dite che Tommaso non esiste io non lo so se esiste o non esiste è chiaro che come molte delle cose di Pistono noi non abbiamo alcuna prova di quello che dice cioè Pistono è bravissimo a raccontarci delle storie senza prove questo Tommaso è un anonimo che l'ha chiamato l'ha attaccato e dopo che l'ha attaccato sembra proprio il classico schema ha detto ah no però hai ragioni tu mi dite fondamentalmente mi dite un cialtrone grazie adesso sei veramente un bravo ragazzo quindi o esiste e involontariamente si è prestato a fare un po' la figura dell'ingenuo per ed è servito a Pistono nella testa di Pistono ovviamente a riposizionarci tra l'altro altro dogo perché io ho fatto questa diretta che non avrei mai fatto cioè io mi ero dimenticato di Pistono e salvo mi hanno segnato varie altre cose di Pistono io le ho ignorate proprio perché a differenza di quello che lui ed altri sostengono non ho ecco non sono uno che odia sono uno che cerca la verità quindi e il confronto e l'ho sempre dato questo non me lo può negare nessuno poi è chiaro che se vieni qua offendi diffami insulti urli è normale che ti si banna ma questo è lecito e lo può fare anche Pistono io però non l'ho offeso non l'ho insultato anzi lui dice che io avrei detto un'altra cosa l'avrei accusato io tu non sei un angel in verso io gli ho detto questo e lo dice anche lui stesso ricordandosi la balla precedente dopo ammettendo che in realtà semplicemente ho posto dei legittimi per fortuna ancora oggi dei dubbi e dicendomi cazzo a 30 anni è è è difficilissimo riuscire ad avere due trecento mila euro da investire se non li hai ereditati non li hai venti lotteria non li hai non li hai ottenuti dagli investimenti precedenti in cripto non hai aziende di successo perché lo ha detto lui lui non ha una sola azienda di successo sono tutte aziende chiuse nel giro di poco fallite liquidate con dei budget con dei business ridicoli quindi non si capisce lui come si è arrivato a 30 anni a mettersi dei soldi a parte la sua risposta che a mio avviso è assolutamente poco ben esposta e poco ben argomentata è è perché io ho lavorato con delle grandi aziende con grandi che mi pagavano 30, 40, 50 mila euro ogni volta ma ragazzi tutto può essere che ti pagano 40, 50 mila per volta per volta che vuol dire cioè perché molti delle molte delle esperienze di Pistono lo andremo a vedere con i dubbi mai chiariti a Marco Camisani Calzolari e vi dico lo stesso atteggiamento spocchioso infastidito provocatorio disonesto intrettamente disonesto scorretto l'aveva riservato a lui a Marco che rispetto a me ha un curriculum anche che è un po' più grande di me ha un curriculum di tutt'altro spessore accademico imprenditoriale anche giornalistico e anche con lui ma questa gente che mi nomina per avere visibilità perché si sente una divinità si sente una prima donna si sente il più importante di tutti evidentemente quindi è autoconvinto che chiunque lo critichi lo faccia perché vuole vivere della sua luce riflessa non è così Marco Camisani compra e rivende Pistono ed è molto più conosciuto di lui e non ha nulla da invidiare eppure anche lui ha sollevato dei dubbi anche lui è stato trattato nella stessa maniera in cui ha trattato me con delisione un video in cui un video in cui non rispondeva punto per punto ma cercava di buttarla in cacciara e adesso lo andremo a rivedere facciamo un remind tutte le cose perché dicevo che effettivamente da quello che sembra al suo curriculum da quello che lui stesso ammette che le aziende interpellate per esempio lui diceva di essere stato hit of innovation dell'università di Pegaso Camisani li ha contattati e dalla segretaria gli hanno detto sì guarda questo ha lavorato con noi 15 giorni gli avranno dato 50.000 euro per 15 giorni sarebbe da chiedere all'Uni Pegaso o potrebbe mostrarci una fattura Pistono e in ogni caso non tutto quello che tu fatturi lo insegno al mega imprenditore esponenziale esperto di tutto Pistono non è che se fatturi anche 200.000 euro in un anno al fatto che tu abbia un minimo di spese e che paghi le tasse ovviamente hai poi 200.000 euro disponibili cioè fatturi 200 sei in regime ordinario ne hai disponibili più o meno 100 110 115 spendi te ne restano 50 60 per avere da parte il capitale che serve per fare l'angel investor a livelli seri tanto da poter fare dei corsi e tanto da poter dire ho investito in 4 5 startup non ricordo in quante startup ha detto di aver investito ma mi pare che non abbia mai parlato di cifre ovviamente se ne ha parlato non l'ha mai dimostrato questa è anche un'altra cosa strana perché non c'è niente di male io investo in un'azienda lo dico ho messo anzi è un vanto per l'investitore ed è una promozione la pubblicità è una leva di trust per altri investitori per l'azienda proprio perché caro Federico conosco forse a meglio di te questo settore o lo conosco almeno quanto te questo settore so bene quali dinamiche ci sono so bene che cos'è lo IAG come funziona so cos'è un angel investor so che cos'è un venture capital so che cos'è un incubatore so che cosa c'è intorno al mondo startup nel quale sono entrato con la prima startup innovativa che ho fondato nel 2012 la seconda l'ho fondata nel 2019 a novembre 2019 quindi è un settore del quale tra l'altro mi occupo da anni l'inchiesta su mamacraud e userbot per esempio e non puoi fare queste robe se non ne capisci niente detto questo sembrerebbero tutti micro anche su Hyperloop è una roba per una cosa che non è mai partita che è iniziata e finita lì con Google non si capisce che ha fatto che altro Lufthansa non si capisce non si è mai capito che ha fatto è emerso che i loghi della banca mondiale che facevano pensare che lui avesse lavorato per la banca mondiale in realtà non erano assolutamente non davano assolutamente questo messaggio ma semplicemente banalmente lui ha avuto un endorsement da uno che lavorava quindi come se uno della Fiat mi fa un endorsement io scrivo Fiat nel curriculum cioè già sta roba è una figura di merda di proporzioni bibliche però quando tu sei abituato a vive di menzogne devi anche far finta di niente su ste robe e andare avanti allora io voglio prendere proprio la cosa di Camisani e poi analizzo andiamo a scomporre la diretta delirante del pistone del suo fantomatico invito questo Tommaso se esiste a confermarmi che esiste e se vuole io non dirò ovviamente non rivelerò la sua identità mi limiterò a confermare che effettivamente esiste ovviamente quando mi darà le prove magari con un audio che lui è sul serio un imprenditore con 120 dipendenti e che sul serio ha realizzato una 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 intervista endorsement per 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 pistone giustamente Lucio dice Tommaso che non si chiama Tommaso abbiamo detto lui ha detto non si chiama Tommaso esce lo scoperto confrontati come me come vedi come me io non bando nessuno a differenza di pistone non temo nessuno a differenza di pistone e sono qui anche a dare l'opportunità di replica a Federico che a me l'ha sempre negata cercando di demonizzarmi sminuirmi e screditarmi nel video mi sono segnato mi ha insultato in varie volte mi ha detto come dicevo che sono un imbecille che sono un idiota addirittura la parte più esilarante questa analizzando prima è più delirante per questo mi fa dubitare dell'intelligenza di questo Tommaso perché allora o era confuso stanco non lo stava ascoltando o non è stato in quel momento almeno particolarmente attento e sveglio perché lì pistone fa uno dei suoi giochetti mistificatori di bassa retorica livello molto basso insomma già a 15-16 anni lo puoi smontare e dice ma è come se uno tu hai l'azienda con i tuoi dipendenti 120 dipendenti precisiamo che pistone non mi risulta ne abbia uno solo quindi non so perché parla agli imprenditori con questo tono di superiorità pistone al momento non è un imprenditore è ceo di se stesso e se anche avessi un dipendente non lo so come si potrebbe che tipo di cioè a che livelli ecco di imprenditoria potrebbe considerarsi il vermo è stato che per me è assoluto di imprenditore anche un libro professionista o che ha una micro start up che fattura due dire in croce ma ci sono diversi tipi di imprenditori diversi livelli chi ha 120 dipendenti è sicuramente più imprenditore di chi non ha neanche mai firmato un fido in banca per ottenere un mutuo e non ha neanche un dipendente quindi non ha neanche la responsabilità di una persona assunta detto questo la parte forse è più esiguale c'è verso la fine mi pare verso il ventesimo quando lui dice eh io non rispondo a Milite senza citarmi perché mi aggrediva questo è un idiota che urla viene fuori la tua azienda tu hai i tuoi 120 dipendenti e dice Tommaso è uno stupratore Tommaso è uno stupratore mi deve dimostrare che non è uno stupratore fin quando non mi dimostra che non è uno stupratore lo è io là ragazzi è lì che ho deciso di fare questa diretta verso la fine ho detto no vabbè devo fare la diretta perché questo è totalmente uscito di testa cioè che cazzo c'entra uno che viene io non ti ho accusato di essere uno stupratore io ti ho fatto delle cazzo di domande Pistono e tu mi hai detto che te le dovevo fare in privato poi dice ah se lui mi avesse detto che facevamo una live no una intervista dove lui non tagliava non smezze ma cazzo ma non sei molto sveglio come vuoi far credere ma io faccio le live di confronto le live come dovresti sapere anche tu lo dice la parola stessa live diretta non si possono tagliare e cucire Pistono sei tu che hai paura sei terrorizzato da confrontarti con me perché sai che a differenza di quello che dici un vero giornalista appunto come un vero giornalista prima di farti domande in pubblico ho verificato anche con gente che ti conosce che ha lavorato con te ho chiesto feedback e informazioni prima di uscire e ti spiego come funziona il giornalismo perché tu non lo sai come funziona il giornalismo so che sei convinto di sapere qualunque cosa qualunque tema dello scibile umano tu sei convinto di poterlo patronizzare ma non è così se io scopro delle verità su di te delle incongruenze nel tuo curriculum delle millanterie delle menzogne o peggio non sono assolutamente dovuto ad avvertirti per darti modo di cancellarle o magari preparare delle risposte ma proprio per niente è l'esatto contrario del lavoro di inchiesta anzi io ti devo prendere un fallo a sorpresa a bruciapelo e farti le domande non sono quello che sono tenuto a fare l'unica cosa che sono tenuto a fare è darti la possibilità di rispondere cioè faccio un esempio se ti faccio una domanda e ti dico tu non sei un angel investor secondo me e tu invece poi mi dimostri che lo sei lì io non posso censurarti è una c'altronata è un po' come quando un giornalista ti fa delle domande in pubblico prende più like di te e tu lo bagni e lo cancelli insieme a oltre 200 commenti di gente che ti chiede di rispondere alle domande è un po' quel tipo di cialtroneria lì ok è come se se facessi così mi comporterei come chi fa queste cose qui quindi quando tu dici che io sarei come uno che ti accusa di essere uno stupratore sei in malafede o sei stupido allora visto che io non credo che tu sia totalmente idiota non mi permetto di darti dell'idiota e dell'imbecille penso che tu sia una persona poco corretta ecco che adotta delle strategie di comunicazione furbette e meschine questo penso ma non penso che tu sia uno stupido penso che tu sia un esaltato questo sì un esaltato che si fa perdere un po' prendere un po' dalla megalomania e dalla mitomania ma questo è nell'ordine del mio parere opinabile del diritto di critica ovviamente così come tu puoi dire che io sono un imbecille puoi dire che sono un cretino puoi dire che sono un fallito puoi dire che non ne capisco niente di start up e di aziende lo puoi dire io non mi sognerei mai di querelarti per una roba del genere però esigo e voglio quando mi dai mi muovi queste accuse così gravi una replica la possibilità di rispondere e di dire che non è vero che è falso e questa è l'unica cosa che io esigo e quando tu dici che io ho agito come uno stupratore pazzo idiota che urla che tu sei uno stupratore ti assicuro che la figura dell'idiota è probabilmente dell'idiota in malafede la fai tu non io almeno agli occhi di gente che ha il cervello che ha i neuroni connessi e ragiona perché? perché io ti ho fatto delle domande su alcune incongruenze del tuo curriculum e lo storico delle tue aziende e ti ho chiesto in maniera molto semplice tu poi l'hai buttata in cacciara hai cercato di confondere le acque come fai sempre sperando che si perdessero in queste acque che hai mescolato la marea di cagate che avevi detto durante la tua carriera di presunto esperto di non si capisce cosa hai detto che avevi detto ai tuoi genitori di investire in Google nel 97 quando Google è nato nel 98 e si è quotato nel 2004 poi hai detto no è un errore di battitura cazzo dal 97 al 2004 è un bel errore di battitura non è 9-8 però qui si capisce la tua malafede perché io non ho studente non ti ho accusato di essere uno stupratore è una classica un classico mezzuccio retorico di bassa lega che serve a inventarsi una cagata che il tuo avversario non ha mai detto per screditarlo io ti ho fatto le domande semplici non ti ho mostro delle accuse precise e dove ti ho mostro delle accuse erano accuse aperte cioè ti ho detto guarda a me risulta che tu hai delle aziende che non fatturano niente che non hai mai fatto non hai mai fondato una sola azienda di successo a me risulta questo me lo confermi o me lo neghi puoi vederla come un'accusa quelli come te la vedono come l'accusa di un eter con la bava alla bocca che ti invidia perché tu fai un sacco di soldi e lui è povero a voi piace anche pensare questa cosa che io sono povero se vi dico che sono povero state meglio allora sì sono povero frustrato non guadagno niente non ho costituente la mia vita poi magari un giorno vi farò il mio percorso dell'eroe ve lo racconterò quando e se mai mi interesserà e mi andrà così capirete che in realtà spesso più si è piccolini e consapevoli di esserlo e più si cerca di gonfiarsi come dei pavoni più si è normali insomma si hanno fatto delle cose carine e concrete e meno si tende a sponsorizzarle soprattutto se non si deve vivere di personal branding per vendere le proprie competenze e i propri successi reali o presunti e H scrive Germano tu e Pistono siete uguali tutti e due e H io spero che questa sia una battuta perché ti potrei mandare anche a cagare uguale a Pistono ti querelo subito aspetta chiamo il mio avvocato faccio come come fa gattuso avvocato no a parte scherzi a parte non ci c'è egoreferenziali un po' cacofonico egoriferiti forse o autoreferenziali fatto un po' un ibrido non so in cosa saremmo autoreferenziali magari me lo sai argomentare meglio anche se non c'entra molto con quello di cui stiamo parlando io posso anche essere autoreferenziale non ti sto vendendo niente Massimo se ti scoccia smetti di seguire e te ne vai dopo che me l'hai fatto presente io ti chiedo perché pensi che io sia autoreferenziale aiutami a capire che cosa ho detto in passato sto dicendo adesso di autoreferenziale così ci capiamo il malacraud non lo so ho detto malacraud Pistono disse che avevi posto domande ma non hai risposto ad ascoltare io penso che hai risposto ad essere manipolato bravo Gian Antonio io so che lui ti ha anche contattato tu mi hai detto che lui ti ha contattato perché ha visto che te ci avevamo scontati su cui pensate uno che arriva a contattare in privato la gente che mi contesta cioè rendetevi conto del livello una roba incredibile per cercare di portarla alla sua parte quanto sta disperato e sì lui dice no non è vero sto qua Pistono sia io che Marco Camisani stiamo aspettando da Pistono delle risposte siamo assolutamente pronti ad ascoltare che lui poi ci voglia dipingere come dei caini dei ladri che ti devo dire degli schifosi invidiosi beh fa parte del suo auto storytelling di uno che si dice da solo che un CEO è difficile il lavoro da CEO perché devi devi fare selezione del personale ragazzi ma Pistono faccio selezione del personale a dieci anni mi sto sparando le menate per stare a me per me è una cosa normale forse per te è una cosa nuova è credibile fare selezione forse è la prima volta che stai selezionando cioè non si rendono neanche conto se voi vedete quel posto c'è la sua foto con la citazione CEO è dura essere un CEO ora capisco cosa vuol dire essere un CEO vi rendete conto che lui è talmente preso nel suo stato di alienazione megalomane che non si rende conto che è ridicolo due volte perché si mostra sorpreso da questa attività che per un vero CEO è la normalità è la roba che io faccio da dieci anni cioè la roba che faccio da un anno da due anni da tre anni mi sembra oddio è incredibile e poi sento il bisogno di scriverlo che è incredibile ma sti cazzi significa che tutta grande esperienza di cui parli non c'è comunque finché non ti tuffi anche tu nel mare ghiacciato caro Milite parliamo di niente hai ragione cara Fidilio tra l'altro il mare non ghiacciato ghiacciato di Tallin dove c'erano meno 2000 gradi in realtà le temperature medie in quel periodo ma Tallin basta che voi fate una ricerca sono molto lontane tra l'altro una temperatura a meno 10 meno 10 non so quanto cazzo meno 20 che dice se dobbiamo fare cazzate spariamo le grandi no? l'acqua è ghiacciata cioè il mare non è che ci vai nel mare il mare è ghiacciato l'acqua ghiaccia basta andare su google e vedere a quanti gradi l'acqua ghiaccia quindi meno 22 come cacchio fai ad entrare nell'acqua tra l'altro manco è pare fake pure quella buffonata quella pagliacciata cioè tu si vede che lui che va fino alle caviglie poi sparisce non si vede che effettivamente si è immerso e lui riemerge allora rendiamoci conto che io proprio perché mi avete segnalato Germano guarda che ha pubblicato ah è ridicolo Germano ma questo è pazzo Germano ma va aiutato Germano ma questo non sta bene e visto che io non faccio lo psicologo e non mi accanisco e non sparo la sua voce rossa e tendo ad evitare il più possibile dipendere dal suo personale sebbene lui mi abbia già offeso e diffamato in precedenza io ho ignorato tutto ho detto vabbè ragazzi non è che non posso parlare di pistono che si dice che da solo che è un ceo cioè diventa poi forse anche fuori luogo per voi che mi seguite no? me ne sono occupato le domande restano aperte lui non è mai stato in grado di rispondere né è mai stato in grado di fare un confronto con me ma ripeto è un confronto che perderebbe cioè un confronto che lui sa di non poter fare con me tanto meno ancora meno con Marco Camisani quando ho visto questo delirio dove si ribalta la realtà si manipola completamente addirittura si manipola le mie domande mi si fa passare per uno che dà dello stupratore gratis alla gente ma mi devi denunciare domani una cosa che non si dimentica di dire pistono ma io ti do dello stupratore ma denunciami hai già vinto denunciami hai vinto già è una delle poche cause sicure denunciami querelami per diffamazione perché ho dato dello stupratore e vinci altrimenti è fuffa è aria fritta persino la risposta all'accusa di fuffa cioè la fuffa inside fuffa è bellissima questa roba qua e non la sapevi tutta sta roba è allucinante ti confermo che fede ciao saverio saverino non ti conosco pratica il metodo wim off regolarmente ah tu sei amico suo vivi con lui non so sei il compagno non lo dico per prenderti in giro giuro non sono sarcastico sei il compagno un socio vivi con lui come fai a saperlo ti spiego perché molti me compreso in sincerità hanno pensato che fede avesse messo un fake prima di tutto perché abbiamo detto che la temperatura non può essere quindi almeno la temperatura è fake che la temperatura al 100% non è meno 20 gradi nel video non si vede lui che si immerge e ci puoi spiegare tu severino che lo conosci immagino lo stimi perché ha tagliato non ha fatto vedere la parte di quando lui entra in acqua si immerge magari sta per un po' perché ha fatto vedere solo la parte dove entra fino alle ginocchia poi sparisce e poi rientra che sembra anche asciutto come mai secondo te sono serio ha creato questo video e lo ha montato così cioè dando adito ai dubbi cioè lo ha fatto apposta magari l'ha fatto apposta Nicola lo so mi state richiedendo l'avere di Montemagno e avete ragione avete ragione l'aspettate più di ogni altra vi prometto che la farò entro marzo ok e ovviamente è una promessa da parte di uno che se cose le fa nel tempo libero è gratis per ora però ho quasi fido di raccogliere tutto il materiale una live sul Monti capirete che è bella impegnativa deve essere sostanziosa interessante quindi la devo preparare bene andiamo a vedere però per smontare tutte le altre sciocchezze che lui ha detto nel video addirittura lui dice che non mi risponde oltre perché sono un idiota un imbecille un fallito uno che è in mala fede non capisco le risposte che mi dà cioè io ascoltavo e dicevo ma mia questo è un esaltato io ne ho conosciuti pochi di esaltati come pistone cioè questo veramente è convinto di essere Gesù sceso in terra venuto tra noi e probabilmente lo hanno aiutato a costruirsi questa maschera questo personaggio automacchiettistico quelli che gli hanno dato credito senza fargli mai una domanda quindi lui si è anche disabituato a gente che lo metteva in dubbio e per questo reagisce così male lo conosco poco di persona per quanto riguarda il taglio non lo so non ho montato il video eh appunto però so che pratica il metodo perché lo pratico anche io ne abbiamo parlato ma l'hai visto praticare io vedi non voglio Severino lo hai visto? perché vedi io ti posso dire ma guarda io pratico il metodo Wim Hof da tre anni sono stati eccezionali ho provato a immergermi a Tallinn almeno ventidue ho spaccato il ghiaccio mi sono immerso sono rimasto due minuti immerso nell'acqua dopo non ti dico te l'ho raccontato ok? te l'ho raccontato l'hai visto? eri con me? per questo ti ho chiesto sei un suo amico un suo socio un suo compagno insomma qualcuno che lo frequenta che ha fatto con lui ha praticato con lui in condizioni specifiche il metodo Wim Hof o te lo ha raccontato? perché io posso raccontarti di fare dieci piegamenti con un peso da 20 chili attaccato alle caviglie e tu magari in buona fede perché mi conosci mi credi perché noi ragazzi allora i ciarlatani i cazzari i fuffari i bugiardi quelli seriali vi assicuro che sanno benissimo che noi siamo inconsciamente e automaticamente portati a credere a quello che le persone ci raccontano cioè il nostro cervello va in risparmio energetico il risparmio energetico vuol dire che se Severino Cirillo mi dice che lui fa il metodo Wim Hof io gli credo e se dimostra di conoscerlo perché magari l'ha letto da qualche parte o ha visto qualche video basta vedere qualche video oggi io ti potrei sembrare un esperto del metodo Wim Hof studiandomi mezz'ora un'ora il metodo se tu magari non sei un grande esperto o sei esperto come me quindi poco però poi ti devo dimostrare che ho usato quel metodo no? altrimenti è chiacchiere visto che di chiacchiere vi sono ne raccontate e l'abbiamo dimostrato in maniera inequivocabile e inattaccabile per questo li usa questi mezzucci per questo mi banna per questo non si confronta con me perché non può dire niente può solo scappare poi può essere che effettivamente lo pratichi che l'abbia praticato ma in quel video non lo so cioè non lo possiamo sapere non sappiamo se l'ha fatto o no e sicuramente comunque non c'era ha mentito ha sparato un'ennesima cazzata inutile sulla temperatura Tallin che non era 22 gradi centigradi io ho seguito Federico e ho comprato il suo corso ma non pensavo fosse così adesso mi sto pentendo di ciò che ho fatto beh guarda vedi io sono talmente oggettivo mi sforzo di essere talmente lucido anche con chi mi offende offende la mia intelligenza dice che io non capirei le risposte che mi dà ma chi cazzo sei Federico Pistono chi sei che non sei stato capace di fondare una una un'azienda decente Pistono nella tua vita hai 35 anni un po' più grande di me mi pare lui è dell'85 84 un po' più grande di me non sei riuscito a fondare un'azienda una una che funzionasse io sì tu no e io sì non lo dico mai lo dico pochissimo non me frega una fava lo dico quando mi accusano ah tu non hai fatto niente beh come dire tu non fai mai non sai fare dieci dieci piegamenti ma se io li so fare ti faccio vedere che li faccio che li so fare ma rispondo all'accusa se ti faccio vedere tutti i giorni che faccio dieci piegamenti mi sto abbantando di questa roba quando mi attaccano su questo aspetto dico ah vada non è proprio così io conosco molto bene le aziende le imprese ci lavoro da dieci anni ne ho fondate diverse una è andata male Young SRL non ha mai scalato adesso sopravvive va però comunque pare fare più numeri di alcune altre per quanto sia un'azienda non è manco un'azienda è una specie di partita IVA mia no di di come devo dire di estensione per 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 come ci ci lavoro e per il volume d'affari piccolino che c'è a parte quella che è una prima esperienza di start up ci hanno avuto un'altra di successo ma avrei potuto anche non avere nessun tipo di successo a livello imperiale questo è un concetto anche sbagliato malato allora il giornalista sportivo deve essere un ex calciatore un ex allenatore se no non lo può fare il giornalista che fa il critico cinematografico deve essere un regista un attore il giornalista che che ne so che si occupa di corporate di finance deve avere un'azienda e deve fare investimenti milionari ma non è così nel mio caso c'è anche esperienza sul campo ma non è così che tu valuti la competenza di un cronista devi valutare se le cose che dice hanno senso e lui dimostra la donanza dell'argomento fine mi dice Severino sì l'ho visto in video ma non mi sono immerso con lui anche perché lui stava a Tallini a Milano in quel periodo e oltre a una vasca fredda non riesco quindi sei a livello basic no? confermami quindi l'hai visto in video quindi hai visto in un video dove lui si immergeva l'hai visto solo tu però questo video non è pubblico giusto ma giusto per capire ma non voglio stare due ore su sta cosa dell'immersione di Wim Hof che è anche sti cazzi no? però mi interessava top perdonami mi sono perso dalle mie lucubrazioni perché hai comprato questo corso e soprattutto la cosa che mi stesse più l'hai visto magari è un corso valido è un corso che tu consiglieresti quale corso hai comprato e quanto l'hai pagato visto che lui dice un'altra cosa incredibile nella live andatela a sentire dice io non vendo corsi ma come non vendi corsi ma che cazzo dici che non vendi corsi che vendi Maverick vendi corsi per corsi poi prima dici io non vendo corsi non sono un guru un fuffacuru non sono un influencer non vendo corsi io però vendo corsi perché sono andato in Bocconi pagato ho insegnato in Bocconi anche lì io non ho voglia al tempo di verificare in Bocconi ma ci vogliamo scommettere che se andiamo a verificare ha millantato anche lì una docenza perché vedete anche io sono stato in università pagato sono stato pagato per un intervento alla sapienza verrò pagato per un intervento sono stato pagato quando sono intervenuto in Brasile pagato però anche questo specifico non in soldi ma in cambio merci bitto e alloggio quando ho fatto un progetto di formazione nell'università di antropologia di Santa Maria nel Rio Grande do Sul in Brasile però non vado dicendo che sono docente universitario sì ho ottenuto delle testimonianze delle lezioni pagate e anche alcune gratuite in varie università in Italia e nel mondo ma non sono un docente universitario ok quindi docente vuol dire che Pistono ha avuto una cattedra alla Bocconi ed è stato pagato continuativamente per almeno un anno dalla Bocconi ce lo può dimostrare boh diciamo che il background esatto non rema a suo favore riguardando quell'immersione non mostrata cioè uno che adesso andiamo a vedere su dove ha mentito lo ricordiamo facciamo un remind ha mentito così tanto così spudoratamente ragazzi io vi ricordo che Federico Pistono Pistono adesso poi la gente dimentica lui gioca su questo ma Pistono è stato beccato da Camisani che prendeva frasi di altri e le spacciava per sue ora questa roba a voi può sembrare vabbè dai è un peccato venire ragazzi ma è una cosa grave perché tu vai in Rai sei comunque un personaggio non sei un personaggio famoso perché voglio dire Pistono chi cazzo lo conosce cioè o conosceranno qualche centinaio di migliaia di persone forse a nome in tutta Italia cioè non è un non è un personaggio famoso però comunque sei una persona in vista ecco sei un personaggio pubblico poi ci sono quelli più famosi meno famosi però sei un personaggio pubblico e tu consapevole che qualcuno ti potrebbe scamare fai sta roba allora lì già si vedono tante cose no? dalle citazioni rubate dalla fotografia con quell'imprenditore cinese se non sbaglio Marco Camisani ha fatto tutto a suo tempo in maniera molto dettagliata che poi gli ha scritto e ha detto vada non conosco Pistono non so chi sia non so perché sia attribuito a questa conoscenza con me ma io l'ho visto una volta non mi ricordo neanche chi è quindi uno che parte con attribuirsi citazioni non sue e c'è uno che parte male e quindi poi è chiaro che tu non se la puoi prendere con noi e dire voi siete tutti di provincia c'è pure questa ossessione che lui ha la Silicon Valley la Silicon Valley cazzo ma curati la Silicon Valley non è il paradiso terrestre è un posto interessante formativo sicuramente il terrestre formativo dove stare ma c'è tanta gente che ha visto anche più un mondo di te e che anche non avendo visto il mondo che hai visto tu ha la tua stessa facoltà se non una facoltà cognitiva superiore un'esperienza superiore alla tua cresci ragazzo che hai 35 anni non ne hai più 18-19 che poi ancora sta tutto esaltato con la pelle d'oca perché sei stato in Silicon Valley non ce ne frega una fava cioè andiamo sul concreto allora Roman scrive andare a confrontarsi sicuramente aiuterebbe molto di più anche la reputazione del brand in questo caso del brand Pistono che è abbastanza compromessa e penso che lui abbia fatto studio perché è disperato perché continua magari ad avere gente non me lo spiego altrimenti che quello che mi dicevo con un altro mio amico esperto di comunicazione diceva ma perché ha fatto sta roba ma è pazzo cioè è stupido è autoresionista è masochista perché fa sta roba cioè oramai era un po' passato era passato il ciclone che fa ti ritogliere in mezzo offendendoti e dimostra uno scusate dimostra di non avere neanche empatia di non riuscire neanche a capire a leggere le persone poi tu vuoi prevedere il futuro e non riesci a prevedere la reazione di una persona che oramai dovessi conoscere qui dovevi intuire che se facevi un video del genere dove mi facevi passare per idiota senza citarmi mi davi dell'idiota e dell'imbecille senza citarmi e dicevi che domande che ti ponevo ero tutte stupide e mi facevi passare per quello che pensa con Angel Investor sia uno che fa che investe 200 ore in ECF su Mama Crowd io secondo te potremmo meno rispondere Federico Pistona adesso rispondo e ci ritorno e ritorno anche su cose vecchie tra l'altro ci ritorno perché non le hai risolte se le avessi risolte non ci tornerei più diceva Roman perdonami Roman sì assolutamente è un'operazione di una tristezza infinita andare a contattare in privato c'è un altro un tale Simone Frava a me sembra un imbecille completo se vede vede il suo commento dove mi insulta anche lì senza nominarmi che sono un cafone ma questo imbecille è venuto a insultarmi nel mio gruppo è stato massacrato non solo da me ma da tutti gli iscritti infatti questa cosa l'ha fatto rosicare tantissimo e lì parla il giunto che prende le sue labbra no se tu dici cose che sono oggettimamente idiote è chiaro che la gente che non è idiota come te ti contesta a parte Simone Frama che mi odia per motivi che francamente è ignoto perché l'ho mandato a cagare in privato o in pubblico a parte sto tizio poi ci sono altri 4-5 commenti dice bravo grande fede ottimo hai fatto proprio bene non li pensare guarda e passa e tutte queste solite cazzate è nulla quel video cioè è un video che non ha interazione e se adesso voi andate a linkare la mia replica dove è il terrore che la gente mi vede e mi ascolti e che abbia altra campana questa pagliacciata che ha fatto di questo pseudo presunto imprenditore che avrebbe si sarebbe ricreduto ma questo imprenditore perché non scrive anche a me visto dice vuole sentire due campane perché? perché dice direi ah beh la tua l'ha già sentita no non l'ha sentita perché e si è fatto manipolare se esiste da Pistono e perché Pistono ha organizzato un'altra volta sta roba a cerchio chiuso dove se la canta e se la suona cioè ha preso uno gli ha tagliato e spezzettato l'intervista come diceva lui per uscire secondo lui figo ma ne è uscito da massacrato perché dice talmente tante cagate che durante la diretta tutte le cazzate che dice se le perde se le scorda evidentemente anche in fase di montaggio non è riuscito ad arginarle oppure ripeto come mi diceva ieri un amico probabilmente lui non ha una parte di se stesso non ha proprio la percezione di come lui appare al mondo cioè una percezione distorta del Federico Pistono fuori da Pistono cioè lui si vede in un modo ed è incapace di capire come gli altri lo vedono anzi quando gli altri lo vedono in un modo che a lui non piace fa come ha fatto con me banna chiude critica discredita offende diffama e dice sono tutti cretini come fanno i bambini di sei anni le tue critiche io faccio così se tu sei un professionista hai addirittura l'ardire di voler insegnare ad altri come diventare imprenditori esponenziali pur non avendo mai creato una mezza azienda che funzionasse almeno di avere la maturità e la lucidità e la decenza e la dignità umana e professionale di accettare le critiche e di non fare finta di accettare le critiche perché in realtà se ci fate caso quel video che lui ha quella registrazione alla fine è una registrazione che gli fa gioco cioè una registrazione che parte criticandolo lui poi ribalta secondo lui alcune critiche perché non ci sono io che gli dico ma quando mai io non ho mai detto non ho detto esattamente che tu volevi le domande preparate non ho mai detto che tu non sei un engine investor ho posto dei dubbi sul tuo ruolo da engine investor ho detto che mi risulta molto strano se non impossibile che tu abbia tutti quei soldi da investire a 30 anni se dici che non hai eredità che come al solito la storia deve essere la mia famiglia non c'aveva un euro ero povero bla 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 se no non tira ma è uno che dice oh la mia famiglia c'aveva un pacco di soldi mi ha dato mezzo milione di euro sul conto più quattro appartamenti e adesso faccio un imprenditore no sono tutti tutti partiti da zero vabbè magari è anche il caso di Pistono però io mi chiedevo facevo dei dubbi avevo dei dubbi non dicevo non sei un investor lui dice ah lui dice sei un investor poi gli dimostro non hai dimostrato un cazzo perché non sei stato neanche in grado di dimostrarci quanto ha investito e dove esattamente ha citato un paio di start up tra cui una famosa dove effettivamente lui risulta io questo l'ho detto l'ho riconosciuto quindi non è vero che poi non ho risposto più sono scappato finalmente l'ha detto perché lui lo nascondeva quindi se io dico sono un angel investor e non vi dico dove investo e ci sta che un giornalista dica ma secondo me non è vero cioè secondo me non sta investendo o io come ho fatto io ho il dubbio che tu stai investendo me lo chiarisci questo dubbio mi dici la domanda era mi dici non tu non investi ma mi dici dove hai investito in quanto che è la stessa domanda che gli ha fatto Camisani con Camisani rispose delle supercazzole non si capiva manco cosa diceva quali aziende citava lo fece proprio per buttarla in cacciara non le scrisse come se non erro ha scritto il nome di un'azienda ora non la ricordo una start up abbastanza famosa la vado a ripescare perché c'è a meno che non l'abbia cancellato anche sta traccia e io l'ho dato ah tutto va bene ok allora quanto hai investito e il secondo dubbio che mi è venuto è cazzo ma se è vero che hai investito 200-300 mila euro e non sei un pazzo vuol dire che hai da parte almeno un milione un milione e mezzo e come ti sei fatto un milione e un milione e mezzo se non risultano non risultano non risultano a noi poi magari c'è le mostre delle collaborazioni con aziende di un certo calibro che durino più di tot tempo che non siano a termine non hai aziende di successo mi hai detto che non hai dici che non hai un'eredità di famiglia dici che non hai investito in cripto quindi si soldi questo milione e mezzo due da dove vengono a meno che non sei un pazzo ti sei messo da parte 200 mila euro e li hai investiti tutti il Wim Hof è una pratica estrema e diciamo c'è una cosa che fa anche molto figo se lo facessi io mi farei riprendere mentre entro in mezzo ai blocchi di ghiaccio visto che la parte è più importante soprattutto se lo usi per fare audience e costruire votazione il video che ho pubblicato è una cialtronata ridicola ma questo ragazzi anche se siete i genitori di Pistono cioè quindi gli volete bene giustamente lo difendete come giusto che sia vedete quel video e dice figlio mio ma perché hai tagliato cioè io da padre da padre di Pistono so che mio padre a me mi farebbe questa domanda mi muoverebbe questa critica a mio padre ok mia madre ancora prima di mio padre gli dice ma scusa ma il metodo Wim Hof dov'è? il metodo Wim Hof io ho fatto prima che ho fatto la passeggiata con i calzini in mezzo alla neve e poi mi sono spogliato tutto nudo e sono entrato in acqua i miei genitori mi direbbero sì Gemano ma non si vede che entri in acqua si vede che vai fino alle ginocchia e poi rientri dopo e sembra che non sei entrato potrebbe sembrare così agli occhi di quello che ti odia di quel giornalista schifoso terrorista fallito imbecille idiota cretino ritardato poi dice che tu ma perché cioè è oggettivo che quel video è una roba imbarazzante è una roba cringe un cringe incredibile è vero non sono come Pittaluca lui è docente internazionale allora lui dice Top dice rispondendo alla domanda io ho comprato il corso perché aveva detto che con la sua esperienza poteva mostrare la crescita esponenziale che io sono in start up in Silicon Valley per la mia azienda allora non ha esperienza in questo campo accreditata e dimostrata poi domani ce la dimostrerà sarà comunque tardi perché ce l'ha dovuto dimostrare due anni fa però al momento non ci risulta dopodiché se Pistono vuole intervenire interviene come sempre qui spazio libero è lui che ha bannato me quindi mi devi prima sbannare e poi puoi intervenire però volevo capire quindi ti ha deluso ti è piaciuto non ti voglio costringere a dire che il corso fa schifo magari è ottimo anzi ci dici che nonostante lui non abbia sembri non avere alcuna esperienza diretta in alcun business esponenziale se non a livello teorico o che ha lavorato per 15 giorni per qualcuno ti è stato utile come lo trovi il corso ho capito che sei un po' infastidito perché dici mi ha ingannato su una parte di esperienza che sembra non avere io l'ho comprato vedi dimostri questa testimonianza è importante perché dimostra quello che io dico quanto è importante cioè il fatto che se tu ti poni se io Germano Mite domani dico io vi voglio insegnare il giornalismo esponenziale come lanciare dei progetti editoriali milionari e io ve lo devo dimostrare che l'ho fatto se non l'ho fatto guardate io non l'ho mai fatto anzi ho provato a lanciare quattro progetti editoriali sono falliti tutti e quattro in maniera misera però vi spiego che con questi fallimenti ho imparato ho capito poi ho lavorato per un grande gruppo editoriale allora sono stato a capo dello sviluppo del business model nuovo e ho avuto questi risultati e c'è il CEO che mi accade e lo dice allora sì o ancora peggio no ancora meno dico no io non ho neanche esperienza proprio neanche come dipendente come freelance ho solo fallito però sono un grande appassionato un grande studioso della materia e sono convinto che vi potete dare degli spunti interessanti è chiaro che è molto meno sexy è chiaro che probabilmente non mi caga nessuno però amici miei è la verità cioè è questa la verità se mi pongo come quello che non sono poi giustamente la gente anche se il mio percorso può essere valido in teoria si incazza io l'altra volta facevo una metafora su chi diceva tu non devi formalizzare troppo sulla comunicazione l'approccio c'è il diritto al consumo che si formalizza e le autoriti che si formalizzano su questo ma mettiamo che non mi voglio formalizzare però è come dire poi magari il corso è buono sì è un po' overprime è un po' sparato alto è un po' fuffosa la comunicazione però poi alla fine il prodotto funziona e allora io vi faccio una domanda voglio che mi rispondete tutti ragazzi ascoltatemi bene e voglio che mi rispondete tutti in sincerità ma se io ho uno di voi vendo una macchina un'auto ok e dico guarda quest'auto ha 400 cavalli fa da 0 a 100 in 3 secondi e mezzo e i 260 di chilometri orari in più hai cerchi in lega da 18 e 8 optional tu la compri con quella promessa con quella pubblicità è stata sviluppata da WCG poi vai a casa dopo l'hai comprata e pagata quel prezzo con quelle premesse scopri che l'auto è una buona auto ha una buona qualità ottimi interni grandi definiture premium ma non ha 400 cavalli ne ha 300 non fa 260-250 quanto ho detto ma fa 220 da 0 a 100 non li fa in 3 secondi e mezzo ma li fa in 6 secondi e gli optional che mi avevi detto non sono 8 ma sono 6 i cerchi in lega non sono da 18 ma sono da 16 ora è un'auto ha un motore funziona è bella pure ha un bel rombo ha comunque delle buone prestazioni ma non è l'auto che io ti ho venduto non è l'auto che io ti ho prospettato non è l'auto come te l'ho promossa altra cosa così faccio capire la differenza non dice mai il marketing è così cazzate cazzate il marketing che a me personalmente fa anche non mi fa impazzire è ti devo vendere la BMW serie 1 è chiaro che non ti faccio vedere la versione più schifosa della serie 1 ti faccio vedere la più figa col tettuccia apribile i cerchi migliori l'allestimento migliore gli interni in pelle ti faccio vedere che non sta nel traffico a bestemmiare con l'apecar davanti ma che sta su una strada bellissima di montagna libera senza manco una carta o una macchina nel raggio di chilometri ti imbelletto il background e poi ti dico tua da 200 euro al mese sotto in piccolo a me questa cosa per esempio fa schifo perché è ridicola e lo dicono anche i venditori stessi che è ridicola il conto producente però quello è un marketing quello è un marketing a me non piace però è una roba che fondamentalmente non è illegale e sta anche regittimamente imbellettando il prodotto cioè ci sta che non ti faccio vedere quella con i cerchi di plastica bianca nel traffico con la gente che smadonna è ovvio no però una cosa è fare questo e ti dico tua da 200 euro al mese poi dico sì però aspetta la versione base se dai 15 euro di acconto in più devi dare una maxirata 20.000 euro però ormai la gente lo sa quindi pochi credono ancora a sta cazzata del tua da 200 euro al mese che per me è una mezza pubblicità ingannevole però al di là di questo che è già la parte finale tutto il percorso di storytelling della vettura è assolutamente legittimo ed è marketing sarebbe diverso se ti facessi vedere nel video l'auto con i maggiori optional è più figa di tutte in salone te la farei ordinare gli arrivo te la facessi scusate te la facessi ordinare quello sarebbe la cosa clamorosa quindi se ti facessi vedere l'auto là te la facessi vedere poi in salone te la facessi ordinare e poi quando ti arriva te la facessi pagare con quegli optional e poi quando ti arrivo dico ah no però guarda non è proprio quel modello che hai visto tu è un modello che gli somiglia manca qualcosa ragazzi quello è un raggiro penso rispondetevi voi direste vabbè non fa niente dai ma alla fine comunque la macchina è buona è bella non fa niente ho pagato 7-8 mila euro in più però sti cazzi non me la godo mi dite se voi vi incazzereste o no vi fareste denuncereste il concessionario per truffa o no questo è il fake positioning è il fake until you make it cioè il presentarsi per ciò che non siamo che non è è il cazzo di marketing è di vero il marketing è questo il marketing è andare da un cliente importante vestiti bene preparati bene questo è il marketing cioè ma parte del marketing il marketing è ampio e complesso questo è ok se vogliamo fare un altro paragone io ho la panza e i fianchi mettiamo non io io facciamo un esempio io ho la panza e i fianchi esco con una bella ragazza mi metto una corazza una non so un supporto di plastica che mi fa sembrare muscoloso e bello duro tonico o lei esce con me si mette i push up le tette che sembrano due taglie più grandi si ha i pantaloni che alzano il deletano si ok in quel momento mi ha fatto una bella impressione ci togliamo i vestiti e non siamo le persone che abbiamo detto di essere l'idea malsana cancerogena pericolosa che il marketing la comunicazione siano prima di tutto e quasi esclusivamente manipolazione che se non manipoli non freghi non usi uno strategismo non menti allora non vendi ragazzi è quello che ha rovinato il marketing e in generale la vendita cioè il raggirare il cliente ha rovinato interi settori ha rovinato il settore nel quale opera la mia azienda quello della consulenza dei servizi web l'ha rovinato perché c'è gente che vuole sentirsi garantita la prima posizione su google che vuole sentirsi prendere per il culo è altra gente poi che è stata presa troppe volte per il culo e non si fida più e al contempo agenti di commercio abituati all'overselling all'over promise a vendere roba che non si può fare a dare garanzie che non si possono dare a fare promesse che non si possono mantenere e hanno si sono illusi per anni con questa cattiva scuola che quello sia fare marketing quando in realtà un'altra massima dimenticata è che un prodotto un servizio di valore di vero valore e di vera utilità per il consumatore non ha bisogno di grandi strategie di marketing e di sicuro se anche può avere bisogno di strategie di marketing non ha bisogno di strategie di manipolazione questa dovrebbe essere la stella polare cioè non devo inventare cazzate non devo spare puttanate per vendere purtroppo vedo che molti di voi sono convinti che spare puttanate cazzate gonfiare i numeri inventarsi le cose sia l'unica regola possibile altrimenti non si vende e chi fa il contare è un moralista era meglio il silenzio sperando che qualcuno attirasse maggiormente la tua attenzione e ti dimenticassi lui invece ha acceso i nuovi riflettori su di lui ma poi quanto puzza di fake quella telefonata lì di base aveva deciso di registrare una chiamata sperando di tornarsi utile sì pure questo io mi chiama uno e la registro poi per carità io registro quasi tutte le telefonate che arrivano è un'app perché non so mai chi mi arriva a volte mi arrivano dei pazzi mitomani però io non credo che lui faccia il mio lavoro quindi non so perché uno come lui dovrebbe registrare una telefonata poi che fai oppure magari non l'hai registrato e gli dici senti mi puoi richiamare tu hater che mi odi mi puoi richiamare così da registro che dici anche a me sembra un fake anche quella considerando che il pistone di fake ne ha fatti tanti in chiusura li andremo a vedere non mi meraviglierei se poi tra l'altro se Tommaso esiste può star qui si può palesare anche in me in privato non so perché dovrebbe avere vergogna perché non ha detto che ho fatto nulla di male se non apparire un po' ingenuotto e manipolato facilmente manipolato nella fine dell'intervista dove alla fine dice sì Federico sei un figo e Germano Mite purtroppo viene seguito e Fabrizio anche io non ho capito il senso probabilmente tanti, troppi gli chiedono di quel mio articolo di quella mia inchiesta e di quella di Camisani Calzolari e delle domande alle quali non ha risposto e adesso facciamo un escursus per chiudere evidentemente lui non sa più come rispondere e si illudeva del resto lui ha fatto due post deliranti per rispondermi hanno solo peggiorato la sua situazione si illudeva che con questa pagliacciata questa cialtronata clamorosa avrebbe potuto risolvere e mandare il biglietto agli altri no Alan giusta la tua stai facendo un prodotto che ha caratteristiche oggettive è un bello spunto tutti i prodotti e i servizi hanno caratteristiche oggettive tranne i casi particolari ma l'oggettività esiste cioè se io ti dico Alan io sono un imprenditore esponenziale di successo ho fondato 10 aziende o 1000 dipendenti questa è una cosa che o è vera o non è vera ti trovi è oggettiva anche questa non è come l'option della macchina o c'hai il filtro antiparticolato o non ce l'hai o sono imprenditore esponenziale o non lo sono cioè non è che si però a metà e se è si però a metà va capito perché mi sono inventato metà cazzate quindi non è vera questa cosa cioè il paragone si fa perché anche se tu ti affidi a me con un servizio di consulenza e io mi lanto esperienze professionalità e convenze che non ho ti sto raggirando esattamente come chi ti vende un telefonino con delle caratteristiche che non sono le sue o ti vende un telefonino rubato come se fosse nuovo sono forme diverse di raggiro ma è uguale ti sto vendendo una roba che non corrisponde alle premesse e alle promesse poi che ci siano delle strategie lecite intelligenti per valorizzare è come quando uno si veste bene no? valorizzare i pregi e nascondere i difetti ragazzi quello è legittimo o lo facciamo anche tutti i giorni quando usciamo a cena con la nuova ragazza non penso che ci vestiamo male per far vedere tutti i difetti o ci sediamo e gli diciamo tutti i nostri difetti subito appena partiamo è chiaro che cerchiamo di mostrarci al meglio ma una cosa è che io cerco di mostrare il meglio di me come il giusto legittimo che sia a livello personale a livello di marketing è una cosa questa cosa penso sia clamorosa che non si afferri è una cosa che io dico ma sai io in realtà sono un ex pornodivo mi chiamavano mister 28 non so più a dirti perché lo puoi intuire da te più ho tre aziende due Lamborghini e un Aston Martin adesso sono tutte e tre a fare revisione ho la panda qui un attimino che mi ha prestato mia nonna ma capite che qui ti sto ti sto raggirando ti sto inventando ti sto raccontando una marea di balle il marketing poi è anche la percezione che io creo io posso solamente giocare su alcune leve anche psicologiche persuasive per aumentare la percezione del brand ma ripeto è una linea sottile ma al contempo molto doppia quella tra raggiro, manipolazione e pubblicità ingannevole la pubblicità ingannevole e la pratica commerciale scorretta esistono proprio perché c'è chi va oltre questi confini e giustamente viene sanzionato tu devi muoverti entro quei confini e se è un bravo marketer un bravo imprenditore se riesci a produrre prodotti e servizi a promuovere a lanciarli sul mercato a fare il go to market con prodotti e servizi che riescono a essere venduti bene rimanendo nel confine del lecito e dell'etico che poi sono due cose diverse non sempre ciò che non è etico è anche illegale a volte ci sono cose non etiche che sono ancora legali non lo saranno tra un po' perché l'etica la morale e la giurisprudenza non viaggiano sempre allo stesso modo faccio un esempio mainstream il diritto d'onore l'uomo che trovava la donna a letto con il rivale la poteva uccidere in quel momento e diciamo che diciamo vabbè dai si è fatto prendere la lira ha visto l'eso il suo onore di uomo diventato cornuto e quindi le ha uccisi entrambi soprattutto se ha ucciso lei ci sta ragazzi era legale ma non era moralmente eticamente culturalmente più accettabile e infatti non si può fare più la legge si adegua ed è in divenire non è mai non è che dicevano è illegale è illegale quindi si può fare sì è illegale ma magari fa schifo cioè praticamente fa schifo il marketing è saper bene mi piacciono tutte queste definizioni di marketing che stiamo dando il marketing è saper mettere il prodotto o servizio giusto davanti al cliente che ne ha bisogno facendo di percepire il suo reale valore al momento giusto sicuramente una parte il marketing serve a valorizzare prodotti e servizi rispetto a uno schema valore se lo schema valore è falso lui ha anche il marketing che lo rappresenta è in di b direi che Nicola anche questa tua definizione è molto buona io allora ho avuto la fortuna di imparare da gente che non pensa che fregare la gente sia un obbligo per fare business se sono strafelici il marketing è uno strumento le scelte etiche i legali sono nostre secondo me concordo con te quanta verità bravo Germano oggi sembra che il marketing sia associato a chi fotte meglio eh purtroppo sì purtroppo sì hanno fatto tanti danni vedi anche Alan la menzogna è una balla è una balla è una balla su un prodotto fisico tangibile o una balla su un prodotto intangibile la mia competenza il mio storico il mio passato resta una balla e forse è ancora più grave una balla intangibile perché la balla tangibile se tu mi vendi questo telefono per nuovo provi a vendere per nuovo ma in realtà è usato o rubato magari a una prima vista io vedo che ha dei graffi è un po' usurato e quindi che cazzo fai oppure mi dici guarda questo è un Samsung S21 questo qua è un S20 credo sì un S20 Ultra guarda vado a vedere c'è scritto dietro Samsung S20 Ultra quindi è più difficile fregare su una cosa tangibile e dai al cliente l'opportunità di essere diciamo con un minimo di attenzione di accorgersene ma se io se io tradisco la tua fiducia e ti racconto una marea di cazzate che tu difficilmente puoi verificare perché quando Pistono dice io sono imprenditore esponenziale poi dice no non lo sono imprenditore esponenziale insegnano a diventare imprenditore esponenziale prima diceva poi ha cambiato lui ha detto troppe palle ragazzi se vi andate a studiare ci sono troppe cose che non coincidono perché lui come quasi tutti i bugiardi seriali non ammette di dire balle cioè non lascia neanche spazio a dire sì effettivamente forse qui ho sbagliato no è sempre la vittima e gli altri sono cretini sono invidiosi sono idioti chissà perché Federico Pistono ma in realtà a meno che non l'abbia cancellata ora io la vedo l'ho vista stamattina e sulla sua pagina Facebook ha caricato questo video delirante che abbiamo comunque una marea di gente si illude che siano legali cose che non lo sono sì è vero è vero allora ragazzi per concludere nel frattempo fate qualche altro intervento barra domanda io vi voglio soltanto far vedere il fact checking ci tengo i due i cinque dubbi e le non repliche cinque minuti teniamo a vedere e prendiamo tutti quanti a pranzo perché si è fatto pure dagli eccoci qua allora cinque dubbi si legge facile cinque dubbi sul curriculum di Federico Pistono eccolo qua il biondo ciao Federico dopo che hai copiato citazioni di altre firmandoli col tuo nome tac mi hanno segnalato alcune incongruenze in relazione al tuo curriculum ricordo ne approfitto per ricordare a tutti i guru che si sentono o non si sentono tali che mi odiano e ci odiano che noi non è che passiamo il giorno a voler screditare gli altri ci arrivano delle segnalazioni che spesso sono decine di segnalazioni e ci muoviamo sempre solo dietro una segnalazione è rarissimo diciamo che su cento volte che voi mi sentite parati qualcuno novantanove è perché ho ricevuto almeno qualche decina non una non due non tre qualche decina di segnalazioni sono sicuro che tu non oppure due tre ma eclatanti ok clamorose sono sicuro che tu non abbia niente da nascondere che si tratti solo di male lingue o di frentendimenti non voglio certo fare il guardiano antifuffa digitale non ci serve niente di male caro Marco comunque ma come sai mi spendo da 25 anni qui c'è il curriculum lavorando nel mio piccolo per cercare di difendere la professionalità di chi lavora seriamente che a volte viene rovinata da chi invece gioca sempre sul filo di lana delle furbizie quello che dicevamo prima no strigge diciamo strizza l'occhio alle menzogne e alla manipolazione per cui ti chiedo se avessi voglia e tempo di rispondere a queste cinque semplici domande alle quali Piston ha deciso di rispondere non rispondendo come ha fatto con me con un video cacciara ti definisci imprenditore ma non è chiaro in che modo se si basa sul tuo curriculum se ci si basa sul tuo curriculum ci sono numerose aziende che hai fondato è vero ma se si entra nel dettaglio sono prevalentemente inattive o con utili risibili con per esempio Conos azienda beh questa l'ho analizzata anche io non ve la leggo tutta poi se volete comunque lui fa esplori fa il lavoro che poi ho fatto anche io dopo aggiungendo altre aziende approfondendo ulteriormente perché nel frattempo penso ne sia uscita un'altra ti definisci Angel Investor e pubblichi video pieni di consigli su come investire sul fatto che metti i tuoi soldi nei vari progetti su cui investi siccome non si trova traccia di aziende su cui hai investito come Angel avresti voglia di dirmi questo poi una mi pare che lui ha citata un anno o due anni dopo questo post avresti voglia di dirmi in quali aziende hai messo soldi e un'idea di quanto non credo siano problemi di privacy alla peggio rispondendo gli fai pubblicità che immagino faccia sempre piacere e infatti di base gli Angel Investor non fanno robe segrete lo dicono soprattutto se uno glielo chiede magari tu dici io scelgo di non dirlo non mi interessa perché magari non mi vendo questa roba dell'Eastern Angel Investor come se fosse una certa di patentino però se lo voglio fare a maggior ragione poi devo mostrarle nel suo curriculum su LinkedIn scrivi nel tuo curriculum scrivi nella sezione work di essere stato fellow da maggio 2015 a settembre 2016 alla RSA Royal Society for the Encouragement of Arts Manufacturers and Commerce ma dalla RSA mi hanno spiegato che se sei un fellow significa semplicemente che sei uno dei 30.000 volontari che aiutano esternamente che quindi non lavorano alla RSA se ho capito bene se hai fatto solo il volontario forse devi mettere quell'esperienza nella sezione volontariato del curriculum o sbaglio a proposito del tuo incarico presso Hyperloop che nel tuo curriculum è oggettivamente la cosa più di spessore le aziende mi dicono che tu non sei stato coinvolto sei stato scusa sei stato coinvolto statuariamente su un progetto che non è mai partito me lo confermi? si confermo confermato un'ultima curiosità su una cosa bizzarra nel tuo curriculum a circa metà pagina metti due grandi loghi quello dell'US Department of State l'US Department of State e quello della World Bank all'inizio giudicando le dimensioni ho pensato che c'entrassero con te ma poi mi sono reso conto che sono i loghi delle istituzioni con cui hai collaborato ha collaborato una persona che ti ha lasciato una recensione e che con te il tuo curriculum non c'entra nulla corretto uno che è della Fiat mi lascia una recensione e io dico ok ho lavorato per la Fiat lo metto come logo facendo intendere che ho lavorato non è alcun obbligo di rispondere questa è l'unica cosa con la quale concordo lui non è obbligato a confrontarsi con me ma deve stare zitto ed evitare di diffamarmi e screditarmi se non vuole confrontarsi dire guarda io non mi voglio confrontare poi credete quello che volete io non mi voglio confrontare credete che sì ho delle cose da nascondere non so accettare un confronto con me perché mi massacrerebbe o per altri mille motivi miei i cazzi miei non mi voglio confrontare sono d'accordo lui non è obbligato quello che però è obbligato a fare è concedermi replica se mi offende questo adesso vi faccio vedere le non risposte e poi chiudiamo ecco qua la stessa cosa alla non risposta infatti il titolo è Federico Pistono replica i dubbi sul suo QV ma senza rispondere alle domande ha replicato al mio post con questo video non so se è ancora visibile per quale motivo hai scelto di brigare con un video invece di una risposta chiara e per iscritto magari punto per punto lo dico io Marco per buttarla in cacciara come ha fatto anche con me in fine volte un sospettoso potrebbe pensare che lo hai fatto per evitare che con un video pubblico sotto pagine e follower vengano a conoscenza delle domande che ti ho fatto stesso timore che aveva anche con me così come un malfidente potrebbe credere che rispondere in video ti dia la possibilità di essere più fumoso e vago rispetto a una in cui per iscritto risponde ai singoli punti inoltre stranamente non dici mai il mio nome non lo cita mai anche lui no un personaggio uno in cerca di autore lui non ci cita non si abbassa a citarci ci offende soltanto un prevenuto potrebbe addirittura pensare che in questo modo non dai la possibilità a chi dovesse vedere in quel video un link e arrivare al posto di generale con le domande il presunto intervistato di Pistono fa il mio nome che viene poi bippato e dice eh così senti una sola campana è appunto Pistono perché non la fai sentire la mia campana di cosa hai paura tuttavia per carezza di chi legge prova ad assumere risposte alla tua videorepa la domanda 1 in cui ti chiedo dove siano le tue aziende di successo in quanto fai video che danno dei consigli videoriali rispondi dicendo che è normale fare fallimenti per poi fare cose di un pochino più di successo ma non dici quali perché non ce ne sono probabilmente da poter dire così le citi sempre a caso ma non le citi mai le nomini ma non le citi o meglio le citi ma non le nomini il contrario non hai quindi risposto alla mia domanda quali sono le aziende di successo che hai fondato secondo me la risposta ad oggi che possiamo dare è nessuna la domanda 2 in cui ti chiedo in quale aziende hai investito i tuoi soldi e quanti rispondi con una domanda che non ti ho fatto anche con me risponde con delle domande che non ho fatto tipico atteggiando chi vuole buttarla in cacciara ed è scorretto perché non sa come risponde qui risponde con domande che non ho mai fatto o che in affermazioni con affermazioni che non ho mai fatto o con atteggiamenti che non ho mai avuto ovvero confermi che fai parte di Italian Angel Investor Growth il più grande gruppo di investitori ti ho chiesto se ne fai parte non ti aveva chiesto ma quanti soldi investito direttamente di tasca tua come Angel tipo ti piace il giallo ma guarda le moto sono delle vetture eccezionali ma non sono neanche vetture le moto sì vabbè comunque ma io ti avevo chiesto se ti piace il giallo nella non risposta elenchi dei nomi di startup che si fa fatica a capire si si mangia un po' le parole in quel video non si capisce con chiarezza in quanto non hai messo tutto per iscritto inoltre parli di milioni investiti addirittura ma al plurale quindi non si capisce rifacendoti credo a Yag ma non rispondi su quali soldi hai messo tu cioè è sempre vago un po' cacciarone ma è preciso puntuale se hai investito 5 mila euro 5 milioni fa la differenza per uno che fa post e video su come si investe nel mondo dei business angel dei business investor degli angel investor come cacchio li vuoi chiamare degli angel investor come cacchio li vuoi chiamare ovviamente ho contattato Yag 20 giorni fa durante la mia indagione sulle assenuazioni ricevute e mi hanno detto che fa parte fa parte della situazione a un costo di 2500 anni e si aggiungono 350 euro una tantum di iscrizione quindi domani io potrei benissimo permettermi di entrare in Yag anche io e ti do di più potrei anche fare degli investimenti ovviamente non potrei investire come te che sei milionario non si capisce come ma potrei fare anche degli investimenti ma non mi permetto di spiegare agli altri come si fanno investimenti ma anche qui purtroppo non hai risposta alla domanda quanti soldi hai messo e in quante startup difficile capirlo e saperlo abbiamo finito a domanda 3 sul fatto che l'SA tu sia stato solo uno dei 30.000 volontari hai finalmente risposto grazie ha ammesso che è così forse visto che in fondo eri solo un volontario potresti effettivamente toglierlo dal QV no dice Marco metterlo nella versione nella sezione volontari lo so che fa meno figo ma è così a domanda 4 sul tuo incarico presso Hyperloop che nel tuo curriculum è oggettivamente la cosa più stressore hai risposto confermando che il progetto non è mai partito grazie anche qui è la risposta quindi hai confermato che quella roba ha messo nel curriculum non ha molto senso se metti robe che non sono mai partite o che sono durate 15 giorni forse tutte queste grandissime incredibili eccezionali collaborazioni che dovrebbero farci rosicare tutti e renderti un alieno una semi di vita forse dico forse non ci sono io nel mio curriculum che è sicuramente molto più modesto del tuo caro Federico del resto io vivo invidiandoti guadagno due lire rispetto a te che sei milionario ma nel mio curriculum non c'è nulla che sia durato 15 giorni nulla l'esperienza più breve è stata col Corriere della Sera col gruppo RCS che è durato un anno e l'ho messa a fine tutte quelle che sono durate 10 giorni 15 giorni 20 giorni un mese 6 mesi a parte che ne ho avute pochissime ma non le ho inserite perché sarebbe un po' ridicolo visto che il mio curriculum è già un buon curriculum per ora direi ah domanda 5 su cosa centrassero i due grandi loghi nel tuo sito quello del US Department of State e quello della World Bank hai risposto e mi hai confermato che si riferiscono alla persona che ti ha lasciato la recensione e non a te come immaginavo per ora direi che il mio lavoro si ferma qui chi vuole farsi un'idea ne ha avuto l'opportunità qua poi dà insomma di consiglio a Federico ok ragazzi direi che per qualche giorno non è stata online la pagina di Pistono non lo so perché io non la vedo me la dovete passare voi o devo andare da un altro mio profilo a vederla grazie Marco persino Simon Sinek dice che ammette di sbagliare infatti ragazzi chiudo con questa riflessione questi grandi guru no questi grandi guru che usano poi sempre lo stesso loop di contro argomentazioni nei miei confronti e nei confronti di tutti perché hanno anche scarsa fantasia oltre che incapacità di gestire le crisi reputazionali vogliono insegnarvi come si comunica come si sta come si investe come si creano aziende come si prendono clienti ma sono i primi sembra un po' i dentisti dico i denti storti cioè io questo dente qua non potrei fare il dentista mi sembrano quelli che so ovviamente estremizzando potrei fare il dentista dovrei spiegare però perché io non ho tutti i denti incisivi dritti un personal trainer grasso probabilmente non ha grande credibilità allora io dico se io in primis che voglio dare l'arroganza di farmi pagare anche cifre alte per fare corsi per dare consigli e poi al primo incidente al primo errore che posso commettere perché ragazzi lo dico da sempre le aziende sono fatte di persone chi fa sbaglia le aziende fanno errori anche di gestione dei clienti anche di lancio dei prodotti anche di scelta dei collaboratori le fanno tutte le aziende le aziende che io ho fondato le aziende nelle quali ho lavorato tutti fanno errori la differenza tra un bravo imprenditore e un bravo comunicatore e un arrogante megalomane invasato la fa come si gestisce come si reagisce a chi ti fa notare degli errori e te lo fa notare anche in cattiva fede capisco lo capisco che quando ti si attacca in malafede tu ti puoi incazzare io lo capisco siamo esseri umani capisco che faccia incazzare io sono il primo che si incazza quando vengo attaccato in maniera gratuita e strumentale e meschina però dopo razionalizzi metti a fuoco e dici incazzo mi dicono non ci vuole lui ha fatto la paragone del stupratore e stupratore a meno del pedofilo che è dieci volte peggio di darsi uno stupratore cioè io veramente ho degli haters ecco io veramente ho gente pazza che si mette idioti che si mettono a urlare mi dicono che sono un pedofilo io l'ho avuti e l'ho dovuto affrontare proprio perché erano accuse totalmente deliranti infondate infami proprio campate in aria totalmente le ho affrontate mi sono incazzato molto però le ho affrontate se avessi censurato dal giorno 1 e avessi cercato di seppellire quella cosa beh ci sa che qualcuno avrebbe potuto dire ma sai che forse forse anche un fondo di verità c'è questa è la base poi io sono anche d'accordo che non sempre bisogna mischiarsi nel fango quando è troppo ed è ridicolo e dopo che hai dato una tua prima risposta vai avanti e ignora perché se le accuse sono ridicole sono infondate sono deliranti sono cialtronesche rivelano ignoranza e malafede sì tu rispondi una replica alla volta poi fine è inutile che se la mischiarti a rispendere all'infinito e a perdere tempo ed energie quindi il reputation management il crisis reputation management è una roba seria una roba seria che va fatta in maniera seria allora quando Pistono avrà dei dipendenti un'azienda di successo una non dieci quattro cinque dieci una fly down Federico perché sei molto indietro da questo punto di vista sei molto indietro anche a me lo so che ti sembra assurdo ma sei dietro dietro di me cioè sei diversi passi indietro a me anche dal punto di vista del concept del lancio di un'azienda che funziona sei dietro io sicuramente posso imparare anche delle cose da te dalle tante teorie che conosci perché sei un ragazzo che avrà letto si sarà informato si sarà confrontato però da un punto di vista concreto pragmatico di creazione lancio validazione di un modello sei dietro sei dietro a me e sei dietro a tantissime persone per una sola ragione sei a zero cioè stai partendo forse adesso a 35 anni non proprio giovanissimo a cercare di validare la tua prima microazienda perché la tua è una microazienda quella esterna vedendo i numeri no? e fly down calmino piano piano non avere impazienza capisco che tu ti debba posizionare già adesso come guru che nella smania di sembrare un genio è un fenomeno ti sei inventato che nel 97 consigliavi ai tuoi genitori di investire in google quando google è nata nel 98 e poi hai messo una pezza peggiore del buco dicendo no ma è un errore di battitura vedete mi dite si accade un errore di battitura come cazzo fai a sbagliare 2004 anno di quotazione di google a 97 se anche tu avessi previsto la quotazione di google come facevano i tuoi genitori nel 98 mettiamo il tuo sbagliato anno o nel 99 anche nel 2000 o anche nel 2001 o anche nel 2002 o anche nel 2003 a investire in una roba che non era quotata quindi tu suggerivi ai tuoi genitori di investire mamma babbo mamma papà investire su google ma non è quotata federico stai bene tutto ok cioè quindi fly down ridimensionati molto perché sei credimi molto più piccolo di quello che credi da un punto di vista delle esperienze delle competenze lo hai dimostrato per il modo in cui hai gestito questo incidente che hai trasformato in un mega incidente nella maniera scomposta scorretta e anche un po' meschine biacca con la quale mi hai gestito e mi hai trattato non ti permetto di darmi dell'imbecille e dell'idiota dell'imbecille e dell'idiota ti lo puoi dare guardandoti allo specchio riferendoti al modo in cui hai reagito con me perché ai occhi di molti e devo dire me incluso sei sembrato un imbecille un idiota e anche un esaltato in questa particolare fase e in questo particolare frangente poi non sei un imbecille non sei un idiota non sei un esaltato in senso generale io questo non lo so però ti dico che agli occhi di molti molti più di quelli molti più di di più di quanti tu vuoi pensare perché quelli che banni e continui a censurare crescono eh si è risultato così quindi gli insulti che mi hai rivolto si sono rivolti contro di te il tentativo di screditamento ha screditato soltanto te io sono qui Federico lancio un appello visto che lui ormai mi ritiene io sono un appestato con me lui non si confronta perché non voglio ascoltare le risposte mai capito una roba del genere perché sto aspettando le sue risposte mi ha solo dato insulti quindi quelli magari non li voglio ascoltare insulti anche perché me ne hai detti già è inutile che continui a ripetermeli non mi convincerò di essere un imbecille mi dispiace perché lo dici tu beh quando vuoi puoi intervenire sotto questo video e smontare le cose che ho detto replicare quando vuoi sotto ogni mia pagina come commento sul sito dove c'è l'inchiesta su di te, su young io sono trasparente aperto altrimenti non potrei fare questo lavoro e non avere una credibilità che ho già acquisito e che è crescente perché per me la verità della trasparenza è una questione di credibilità di reputazione potrò sbagliare sicuramente in futuro potrà capitare di sbagliare perché tutti possono sbagliare e in quel caso ti assicuro che ammetterò l'errore come ho ammesso per esempio l'errore stupido come dire poco importante di aver confuso per essermi fiato di due fonti diverse che mi hanno detto la sorella di merenda con la cugina di merenda vedi t'ho fatto un esempio di sicuro non è l'unico errore che ho fatto però quando faccio degli errori li ammetto si chiama rettifica ed è una cosa che deontologicamente chi è professionista deve fare ok quindi ci sono errori in ciò che ho detto io non nascondo gli errori diciamo ok ho detto dieci cose due ho sbagliato per come le ho dette va bene ce ne sono però altre otto che sono giuste assoluto che ho sbagliato lì vogliamo confrontarci e congettarci sulle altre due e lancio una sfida visto che lui ha detto che potrebbe avere delle domande live da chiunque purché non sia io magari qualche collega che mi ascolta lo vuole intervistare io gli passo le mie domande e lui gliele fa e in una live o una registrazione lì ho registrato io lo potevo fare live non ho problemi non credo che Pistono si confronterà mai con me e devo dirvi vi dico in sincerità in questo momento non avrei voglia neanche io di confrontarmi con Pistono perché gli ho dato già tre opportunità che ha tutte rifiutato schiaffeggiandomi la mano insultandomi quindi Pistono adesso non merita una replica con me in live non la merita se vuole darla può darla in forma scritta come meglio crede nei commenti sotto questa diretta dove altro vuole ok inviti come talker ne ho parlato prima Giuseppe forse ti sei ti sei confuso cioè non ti sei confuso ti sei collegato dopo è stato invitato al Bucconi io sono stato invitato anche io alla Sapienza sono stato invitato all'università all'estero terrò un intervento testimonianza lezione alla Federico II quest'anno pagato da sole guardate io conosco i diversi fuffari che sono andati all'università invitati anche le università possono cadere nella fuffa poi magari l'intervento suo è stato molto valido molto apprezzato molto utile e di qualità io non sto dicendo questo però già il fatto di che io sono stato docente in Bucconi proprio non ce la fa non ce la fa rimanere ai piedi per te non ce la fa come se dici sono stato docente alla Sapienza sono stato docente alla Federico II ma hanno fatto una lezione cioè due tre si pagate ma mica sono docente ragazzi il docente è un'altra cosa dire io ho ottenuto una lezione all'università è sicuramente un traguardo interessante importante però non è come essere docenti è un'altra roba va bene ragazzi io vi saluto vi ringrazio siete stati tanti numerosi anche oggi prima possibile vi prometto la live con Montemagno vi annuncio la prossima super live che faremo lanciando ufficialmente Scambusters l'altra volta 600 connessioni contemporanee al valore di picco per circa 20 minuti poi siamo scesi a 500 a 400 ci siamo assessati sui 300 320 connessi quindi risponderemo anche a tutti voi diciamo spiegato fai 100 online 80 online vabbè a parte che falli tu in organico senza preavviso 80 70 online fissi per un'ora e mezza ma al di là di questo sti cazzi dei numeri di queste cose che ossessionano i guru adesso abbiamo uno strumento potentissimo che fa 3-400 persone in live ogni volta che lo lanciamo quindi sappiate che ogni reazione ogni azione vostra negativa cattiva smeschina scorretta diffamante avrà una reazione opposta contraria e opposta opposta e contraria vi abbraccio tutti vado a maniare che c'ho fame ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti